ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati sul mio canale visto che il primo video del 2024 è d'obbligo augurarvi buon anno spero che abbiate avuto un passaggio sereno tra il 2023 e 2024 abbiate passato gli ultimi momenti o i primi momenti dell'anno insieme alle persone che amate compatibilmente insomma con le distanze però che insomma sia stata una transizione serena tra il vecchio anno e quello nuovo io mi auguro veramente solo tantissima serenità per tutti noi quest'anno vicino a noi anche lontano e insomma non siamo qui per fare il discorso di inizio anno ma ci tenevo a farvi gli auguri e insomma a dirvi che spero che abbiate passato un buon 31 dicembre e un buon primo gennaio visto che sto girando questo video a cavallo tra 2023 e 2024 e che non è arrivato il pacco ovviamente nel frattempo vi rimando al prossimo video se tutto va bene per la conclusione del mio book haul natalizio e gli acquisti pochi fortuna di dicembre ma oggi invece vi parlo della mia tbr per gennaio dunque cominciare l'anno con tbr poco realistiche lo sto facendo bene in realtà se magicamente il 2024 mi portasse delle giornate di 36 ore non dico 48 ma 36 probabilmente ce la farei ce la farei tranquillamente a finire tutti i libri che mi sono prefissata per il mese di gennaio comunque io ve li mostro tutti si vedrà poi cosa riesco a fare ma insomma tra gruppi di lettura e cose che ci terrei a leggere come inizio anno come sempre ho esagerato cominciamo proprio dai gruppi di lettura vi ho già annunciato i vari titoli per i gruppi di lettura di questo mese ma vi faccio un recap cominciamo dalle lula hunters che gestisco insieme a myriad book hunter a cui mando un bacione con il quale leggeremo il cardellino di donna tart che in teoria era il libro dei mesi di dicembre gennaio ma io non l'ho ancora iniziato ma mi riprometto di cominciarlo appena finisco le due letture che ho in corso con le quali passerò al 2024 perché insomma so che è un bel mattoncino impegnativo e ultimamente sto un po perdendo l'abitudine a leggere più libri in contemporanea mi sono un po tra virgolette forzata a farlo con le due letture che ho in corso al momento perché entrambe ci tenevo tantissimo a leggerle ovvero da un lato wayward di emilia hart e dall'altro benedizione di kentaruf ma devo dire che faccio più fatica che in passato quindi non immaginando di poter chissà in quale modo leggere ascoltare tanti libri diversi in contemporanea mi riprometto di iniziare il cardellino non appena finisco le letture in corso anche per farmi un po un'idea della trama dello stile anche se conosco già donna tart però per darmi un po il ritmo con questa lettura per il gruppo old but gold invece leggeremo gli ansiosi di freddick buckman titolo che come sapete volevo leggere tantissimo e poi è quello diciamo che un pochino so già cosa aspettarmi lo terrò sicuramente per la seconda metà del mese ma per me è un po come tornare a una zona di conforto perché buckman l'ho letto anche relativamente di recente so abbastanza cosa aspettarmi credo ci saranno varie lacrime da versare ma insomma sono abbastanza tranquilla su quello per quanto invece riguarda il gruppo di lettura estemporaneo di cui vi parlavo nel nello scorso video che vi linko qui sopra e qui sotto ho proposto come lettura il buio oltre la siepe perché tra i titoli che veramente aveva riscosso più interesse quando ne avevo parlato insomma nei video scorsi però questo qui l'ho piazzato da metà gennaio a metà febbraio così mi sono tolta quella pressione che stavo mettendo facendo tutto da sola sostanzialmente che mi stavo mettendo addosso per inserirlo assolutamente nelle letture di gennaio visto che come dicevo anche nel video scorso molti di noi secondo me stanno già facendo dei programmi di lettura per il mese o quantomeno immaginando i primi libri per il 2024 questo qui l'ho piazzato a cavallo tra gennaio e febbraio così ce lo possiamo recuperare con calma tutti e tutte tutte le persone insomma interessate a leggerlo e lo possiamo leggere insieme ma senza la pressione di doverlo finire a gennaio poi ho qui due titoli e mezzo tre titoli insomma adesso vediamo anche questi ve li ho già nominati un sacco di volte quindi cerco di procedere un po spedita per non ripetermi troppo un titolo con cui vi ho detto mille volte che volevo iniziare l'anno non sarà formalmente il primo dell'anno perché appunto comincerò come primo libro con il cardellino però c'è sempre questa spada di damocle che mi sono messa da sola di quella sera adorata di peter cameron che oggettivamente mi dispiace tantissimo di aver lasciato indietro l'anno scorso e che appunto vorrei recuperare quest'anno quindi lo vorrei inserire assolutamente nel mese di gennaio però mi do un attimo la possibilità di cominciare prima il cardellino per vedere con che cosa ho a che fare c'è anche una cosa da dire il cardellino è uno di quei libri che un po' come tutti i titoli di donna tart mi intimorisce tantissimo ma più di una persona che lo sta già leggendo per il gruppo dice che in realtà non ci ha messo molto a leggerlo perché comunque la combinazione della trama e della scrittura di donna tart lo rendono non facilmente leggibile perché sappiamo che la scrittura di donna tart non è esattamente quella più lineare anzi ha un linguaggio bello ricco e non da tutti i giorni ma in realtà appunto la combinazione del suo modo di scrivere mi sto accorgendo adesso che ho non ho capito cosa stia succedendo qui scusate la combinazione del suo modo di scrivere e della storia in realtà lo rende molto molto avvincente quindi voglio cercare di non essere troppo spaventata da questa lettura resta il fatto che il povero peter cameron da che avevo giurato pubblicamente che sarebbe stato la mia prima lettura dell'anno deve passare quantomeno in secondo piano perché prima voglio cominciare il cardellino poi altro titolo che vi ho nominato un sacco di volte è olive kitteridge anche questo devo dire che mi piacerebbe tantissimo leggerlo a gennaio vediamo come si mettono le cose però a quanto so questo libro è più che altro una raccolta di racconti nel senso che olive kitteridge è un personaggio che fa un po da filo conduttore ma in realtà le storie sono tutte a sé stanti e questo devo dire mi incentiva a leggerlo comunque non prendendolo come quella lettura che devo fare dall'inizio alla fine tutta ad un fiato ma ad approcciarlo un po come se fosse una raccolta di racconti non ho capito se sia in realtà un romanzo strutturato come una raccolta di racconti o se sia proprio pensato come raccolta di racconti però tante persone che l'hanno già letto mi hanno detto che comunque ha questa struttura un po' particolare in cui c'è il personaggio che unisce tutto ma che ogni storia è a sé stante quindi vedremo l'ultima cosa per cui dicevo due libri e mezzo tre libri è che come vi avevo annunciato mi piacerebbe leggere un libro a tema londra questo perché londra è per me sempre è stata negli ultimi anni pandemia a parte sempre il primo viaggio dell'anno e mi piacerebbe dare il ritmo a quest'anno con una lettura a tema londra ce n'era una che avevo in mente da un po che era il regalo di natale dello scorso anno di mio marito ovvero uno dei libri passaggi di dogana di giulio per un editore che si chiama proprio a londra con virginia wolf l'autrice è cristina marconi passeggiate nella città della vita l'anno scorso avrei dovuto leggere questo perché sono andata proprio sulle tracce di virginia wolf a cercare alcuni luoghi c'è un parco che ha una scultura dedicata a lei dove c'era la sua casa quindi insomma in realtà l'anno scorso forse si sarebbe prestato meglio però ho appena visto che questo titolo è uscito su audible in audiolibro e dura solo tre ore quindi in realtà una ipotesi interessante potrebbe essere portarmelo proprio dietro visto che è piccolissimo anche se avrò solo lo zaino piccolo portarmi dietro questo in modo che magari sull'aereo posso accompagnare ascolto e lettura in qualche momento magari posso solo ascoltarlo in qualche momento posso solo leggerlo mi sembra perfetto perché comunque appunto conta solo 124 pagine ed è anche in veste audiolibro particolarmente breve potrebbe essere perfetto per questa parentesi londinese c'è però un però ovvero che qualche tempo fa mi sono fatta catturare diciamo catturare non abbindolare assolutamente perché io non mi faccio mai abbindolare da questi libri da un libro a tema librerie e londra con una copertina che ve lo dico a fare di un'autrice nordica si chiama mi sembra la piccola libreria sul tamigi è una di quelle storie tipo piccola libreria che deve essere salvata protagonista femminile io me lo metto lì perché so che quando vado a londra siccome sono sempre weekend molto brevi il ritmo è sempre abbastanza concitato quindi se decidessi alla fine che a londra con virginia wolf non voglio leggerlo lì non in quel momento non me lo voglio portare dietro visto che quello ce l'ho in ebook potrei sempre ricorrere a questo espediente qui cioè di leggere comunque un libro ambientato a londra super leggero quindi non impegnativo anche se le giornate sono piene e però mantenere quell'idea di avere un libro dalla connotazione forte londinese mentre sono lì o comunque insomma subito prima o subito dopo il viaggio l'idea sarebbe mentre sono lì quindi questa è un'ipotesi una bozza dei libri che mi piacerebbe leggere controllo un attimo perché mi sono portata dietro il fido reading journal per controllare di avervi detto tutto sì è una tbr super ambiziosa praticamente stiamo parlando del cardellino che già da solo potrebbe prendermi tutto il mese più altri quattro titoli che mi piacerebbe leggere più gli ansiosi che è in ebook quindi se anche anche togliessimo il buio oltre la sepe che magari leggo verso fine mese o a inizio febbraio comunque stiamo parlando di un sacco di libri e quindi mi piaceva l'idea di metterveli tutti qui perché queste sono tutte aspirazioni ma vedremo un po come va in tutto questo ci sarà un grande assente dal mio wrap up del mese di dicembre che è l'ottava vita che io avevo iniziato a leggere e che poi quando quando ho deciso di leggere Jane Eyre poverino è stato messo da parte e non l'ho più ripreso in mano perché dopo Jane Eyre sono riuscita solo a leggere un libro per volta quindi mi riprometto di riprendere in mano l'ottava vita nel 2024 possibilmente nei primi mesi ma in realtà devo sicuramente prima leggere il cardellino perché due mattoni del genere non mi immagino di leggerli insieme e quindi anche questo sarà qualcosa che rivedrete perché mi piacerebbe recuperarlo non c'era niente che non andasse con l'ottava vita quando ho iniziato Jane Eyre non ce n'è stato più per nessuno quindi me lo tengo come appunto mentale da recuperare nei prossimi mesi quindi questi idealmente molto idealmente sono i libri che mi piacerebbe leggere a gennaio appunto ve li metto tutti qui consapevole che sarà difficilissimo portarli a casa tutti ma insomma ci tenevo comunque a mostrarveli a farvi vedere i titoli con cui almeno a livello di aspirazione mi piacerebbe iniziare l'anno fatemi sapere soprattutto con che titoli inizierete voi l'anno se parteciperete a uno dei miei gruppi di lettura quali sono i titoli che proprio chiamano il vostro nome insistentemente per iniziare le letture del 2024 chiacchieriamo come sempre qui sotto io come sempre vi ringrazio tantissimo per il vostro affetto il vostro tempo tutti i commenti che mi lasciate e noi se vi va ci vediamo al prossimo video che speriamo sia il book haul la seconda parte del book haul di dicembre ciao ciao